Buongiorno a tutti, siamo a pochi giorni da Sanremo per parlare con Joe Di Joe, di chi sarà il vincitore. Joe è un esperto non solo giornalista, ricordiamo il direttore di Inciucio.it, vi segnalo, un grande portale di gossip e non solo, di spettacolo, ma anche un ottimo musicista, un grande musicista. Un attimo Joe, non rispondere un attimo al telefono, rispondiamo dopo. Parliamo di Sanremo, Noemi, Arisa, Giussi Ferreri, chi è il tuo favorito? Mi piace Arisa, però penso che vinca Noemi. Quindi secondo te vince Noemi. Oggi la notizia è che Liga Bue sarà ospite del Festival di Sanremo, una grande notizia. Poi ci saranno anche altri... Diciamo che è un po' un festival un po' tranquillo per le necessità che noi stiamo vivendo. Austerity, no? Spending review. E quindi tutti quanti stanno con me la situazione. Ci sarà anche Renzo Arbore che... Arbore è un personaggio importante. Sarà premiato. Sì, sì, certo, è giusto, perché Arbore ha fatto tanto per la musica italiana e anche napoletana. Napoletana, no? Eh, visto che... L'orchestra italiana. E ci saranno anche molti musicisti, anche c'è. Ok, vuoi fare un saluto, dire qualcosa, poi rispondiamo a te. Sì, sono martellato. Cioè, io voglio salutare tutti gli amici che seguono il canale 25 di Pao, che praticamente sono seguitissimo su YouTube, e quindi niente, alla prossima, speriamo che le cose migliorino per tutti. Ok, allora un grazie a Inciucio.it, grazie a Gio, ciao, grazie.